A Pieve Santo Stefano è la stagione degli anniversari da quello della promulgazione delle leggi razziali di 80 anni fa al centenario dalla fine della prima guerra mondiale, passando infine per il cinquantesimo anniversario della stagione rivoluzionaria che presa avvio nel 1968. È questo il percorso scelto dal premio Pieve organizzato dall'archivio dei diari a Pieve Santo Stefano dal 14 al 16 settembre. Il tema della memoria, del ricordo di un periodo fondamentalmente dove questi diari autobiografici vanno a raccontare, raccontano le proprie storie racconta un periodo non bello per il nostro paese e questa memoria e questo ricordo deve essere necessariamente direi obbligatoriamente trasmesso al futuro quindi ai nostri ragazzi e ai nostri giovani che in parte ignorano anche quante sofferenze l'Italia e le popolazioni italiane abbiano passato e trascorso in quei periodi. Protagoniste come sempre le scritture degli otto finalisti che attraverso i loro diari e quindi le loro vite raccontano due secoli d'Italia. Perché incomincia con un diario che incomincia a scrivere nel 1831 un mozzo e si arriva fino, proseguendo in questo ordine cronologio, si passa con il diario di una fanciulla del primo novecento a Ferrara, i primi amori, i primi sguardi e poi un ragazzo che vuole andare volontario nella guerra del 15-18 ci va e morirà e poi dei ragazzi degli anni 30-40 e così via. Tra gli otto finalisti anche la storia della retina Cristina Bigazzi. È una storia che racconta un periodo breve, 2016-2017, però quel periodo è devastante per lei perché nella sua vita entra un ospite, è un tumore al palato che invade la parte più esposta che è il volto e lei combatte una guerra coraggiosa per sconfiggere quest'ospite. Lo fa attraverso la scrittura e attraverso una famiglia che gli sta vicina. Storia meravigliosa dove non c'è nessun compiacimento, nessuna cosa lasciata alla retorica.